Non è facile pensare di andare via e portarsi dietro la malinconina. Non è facile partire e poi morire. Sono Teresa Esposito, candidata con la lista numero 3, Terra da Mare, con Mario Scarpitta, sindaco. Ci troviamo a Marina di Camerota, tra i posti in cui sono cresciuta, tra l'odore del caffè tostato e il basilico. Questi erano i luoghi dove si cucivano le reti e si lavoravano i libani. Ho deciso di candidarmi con Mario Scarpitta, persona di cui nutro fiducia e sima consolidata e con il quale condivido già da tempo intenti ed obiettivi politici e socioculturali perché sono determinata a ridare dignità al territorio, lavorando per il bene comune, affinché il mio paese diventa meta del turismo di qualità. Tutto l'anno, anche grazie al canale della cultura e dell'ambiente. Sai, essere libero costa soltanto qualche rimpianto. Camerota è conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze naturalistiche come la perla del Cilento, ma è anche ricca di un patrimonio storico, artistico e culturale. Il mio impegno è indirizzato soprattutto alla valorizzazione, alla conservazione e alla fruizione appunto di questo patrimonio. Un patrimonio che potrebbe creare nuovi posti di lavoro per i nostri giovani. Vi invito a votare l'11 giugno la lista numero 3 Terra da Mare. Non è facile trovarsi sulla strada Quando passa la necessità di ammigliare